In aggiunta alle 9 settimane di cassa integrazione inserite nel Decreto Cura Italia per le aziende in crisi a causa dell'emergenza Covid, il nuovo decreto rilancio ha previsto altre 9 settimane di CIG, di cui 5 possono essere utilizzate dal 23 febbraio al 31 agosto e le altre 4 soltanto dal 1 di settembre al 31 di ottobre. Di fatto, i provvedimenti del Governo coprono soltanto 18 delle 25 settimane comprese nel periodo in questione, lasciando così scoperti per alcuni mesi e senza alcun tipo di supporto economico i lavoratori delle aziende che hanno chiesto la cassa integrazione dai primi di marzo. In vista dello scenario a dir poco allarmante che si profila per la fine dell'estate, l'assessore regionale al lavoro Cristina Grieco ha quindi scritto alla Ministra Catalfo per chiederle di estendere gli ammortizzatori sociali dei decreti Cura Italia e Rilancio per durata e copertura finanziaria a tutto il 2020, senza lasciare periodi scoperti. Anche perché dal 17 di agosto non sarà più in vigore il blocco dei licenziamenti disposto sempre dal Governo e la situazione potrebbe diventare esplosiva, con conseguenze devastanti per i lavoratori e le loro famiglie.